Grazie mille, allora intanto grazie Ludovica per l'invito, tanto per farvi capire quanto ci tenevo in questo momento, io non sto guardando chi l'ha visto e quindi vuol dire che la volontà è molto alta, non lo farei quasi per niente, per nessuno. Ecco, parto, allora inizio condividendo il mio schermo, vi dico che sentiremo alcune cose, ascolteremo alcune cose, non tantissime, però qualcosina sì, quindi se avete delle cuffie forse riuscite a seguire un po' meglio, o insomma vi dà un po' meno fastidio. Allora, la richiesta di partenza appunto quando da Unitin mi hanno scritto era quella di parlare un po' di come si costruisce un buon podcast. Io ho detto di sì, ma la verità è che io non ne ho la più pari idea e soprattutto non ne ho la più pari idea di come si fa un podcast che funzioni o di successo. E poi anche questo un po' vi ritorno un po' su questa cosa. Ora, nelle slide ho messo tante cose, su alcune cose andrò magari un po' velocemente, però per poter dire come, almeno come cerco di farlo io quando lo faccio, ho fatto un po' un viaggio in che cos'è il podcast di per sé o tirando fuori alcuni elementi che si conoscono poco, perché non c'è ancora una storiografia dei podcast, è troppo recente, è troppo veloce il momento in cui siamo per tracciare una storiografia, e in più si inserisce un po' nella tradizione della sua sorella maggiore che è la radio, che anch'essa ha un problema storico di tracciatura storiografica, cioè si sa poco della storia della radio e si hanno pochi elementi e poche cose. Comunque adesso, insomma, vi racconto un po' il viaggio che ci ho fatto io dentro in questi anni. Intanto vi dico un po' chi sono, che appunto essendo Veneto coincide con cosa faccio, non c'è differenza tra le due cose. Allora, la buona parte del mio tempo lo dedico lavorando per una piattaforma tecnologica di podcast che si chiama VoxNest, che tra le varie cose è proprietaria di un'altra piattaforma che forse avete sentito nominare che si chiama Spreaker, e mi occupo dei contenuti all'interno di VoxNest, quindi mi occupo di tutto quello che gli utenti fanno come contenuti e tutti gli incroci con la parte tecnologica. Poi vi racconterò un po' dopo una delle cose che c'entrano un po' con i podcast che ho fatto, è stato nel 2016 fare un podcast negli Stati Uniti che si chiama Meet, quindi in inglese, quindi andando a giocare diciamo nel campionato dove le cose sono un po' dei grandi, diciamo così, e quindi prendendo le sberle in maniera molto più forte. Scrivo di podcast su Internazionale, ho una rubrica settimanale in cui ogni settimana recensisco un podcast straniero, e poi ho un podcast in italiano che si chiama Problemi, di cui anche quello vi parlerò un po' oggi, se faccio in tempo, perché sto già parlando un sacco. E diciamo che io appunto non faccio in realtà i podcast, o non ho iniziato facendo i podcast, ma io faccio audio, che è una delle cose che si possono fare con l'audio, sono i podcast, ma nell'audio ci sta anche la radio, ci stanno anche i dischi, ci sta anche la musica, ci stanno i live, quindi il podcast è uno dei canali in cui poi il mio lavoro può finire, e nel mondo dell'audio io mi sono sempre occupato dalla prima cosa che ho fatto da solo, dei legami, cioè dello spazio che sta tra gli individui, e che gli individui usano per interconnettersi tra di loro, quindi le relazioni umane. E l'audio per me è sempre stato particolarmente efficace per parlare dei legami e delle relazioni umane, perché la grande maggioranza di quello spazio è occupato dal linguaggio, e l'audio appunto è come una sorta di faro sulle parole che usiamo, e accompagnato poi anche dai suoni e dalla musica, però dove il linguaggio che noi usiamo per interagire con gli uni e con gli altri è il veicolo principale, è l'elemento principale, non è uno degli elementi. Ho iniziato a fare le mie cose, quindi ho iniziato a fare uno stage a Radio 3, poi ho lavorato all'interno di un programma di fiction per un po' di anni, e poi nel 2007 ho deciso che volevo provare a fare delle cose per conto mio, il mio livello intellettuale nel 2007 era quello che vedete in foto, e avevo cominciato a studiare, cioè io avevo lavorato con un regista molto bravo fino ad allora, però avevo conosciuto solo il suo modo di fare le cose, e volevo capire nel mondo della radio in particolare che cos'altro ci fosse. E ascoltando, studiando, ricercando, in un periodo in cui appunto cominciava ad esserci una banda larga, diciamo, di internet abbastanza diffusa, molto rintracciabile, quindi cominciavano ad esserci anche dei progetti di diffusione di contenuti su internet, mi sono avvicinato in particolare al documentario, alla forma del documentario, e in particolare ci sono stati due lavori che ho sentito che mi hanno proprio fatto dire, io da grande voglio fare questo. Uno è molto antico, è fatto da Sergio Zavoli, che era un giornalista della RAI che è morto l'anno scorso, questo lavoro è del 1956, si chiama Clausura e racconta la storia, non la storia, racconta la vita delle monache di Clausura prima del concilio vaticano II, quindi quando erano in Clausura molto stretta, in cui quando entravano poi non uscivano più e non si sapeva più niente di loro. L'idea che aveva avuto per raccontare la vita all'interno di quel convento era di insegnare ad una probanda, cioè una che entrava in un convento e iniziava il suo iter per diventare monaca di Clausura, a usare un registratore, quindi le ha dato un registratore, le ha insegnato come usarlo e quando lei è entrata poi non più pervenuta, però ad un certo punto gli sono stati restituiti dei nastri con delle registrazioni e lui a partire da quelle registrazioni ha raccontato la loro vita all'interno. La cosa che a me sembrava appunto rivoluzionaria, perché stiamo parlando anche un po' di quali sono le rivoluzioni, è l'uso della voce e della lingua che Sergio Zavoli faceva. Tenete presente che fino a qualche anno prima, quando c'era la radio del Leier, quindi del regime fascista, voi sapete benissimo che il tono della radio dell'epoca era questo. Stiamo col microfono sulla scale a destra. edizione molto spinta, dove ci si immagina proprio il conduttore molto impettito. Sul sodio è il duce, accompagnato dal ministro segretario del partito e dai datori ben militari del conduttore, del cronista, si chiamava allora, deve spingere la voce in su, mi, mi, verso il naso. e quando Sergio Zavoli inizia a fare le sue radiocronache nella prima radio del dopoguerra, stravolge completamente il modo di narrare alla radio, nello stesso modo in cui aveva fatto Lucchino Viscone, con ossessione nel cinema, dove aveva preso tutti i piani verticali dei film fascisti e aveva fatto un film solo con ampi piani orizzontali. e in clausura, che arriva poi qualche anno dopo, comunque si sente un po' il suo modo di parlare completamente diverso. è l'eco di un giorno del Carmelo che noi da stasera non vedremo mai più. Un giorno rigoroso, fervido, ma in fine lieto, esattamente molto distante dalla nostra rapida giornata. E quindi anche idealmente va a raccogliere potrete ora qualcosa di diverso dalle voci e dai suoni del cerimoniale monaco. Anziché spingere verso in alto. Fin qui ha parlato il Carmelo. Ora ascolterete le sue abitatrici, donne che escono dal riservo con ansia trepida e comprensibile disagio. Quindi questa era una delle cose che mi aveva colpito. La seconda invece era mia contemporanea. Questo documentario fatto da un mio collega, diciamo così, oggi amico svedese, che si chiama Martin Johnson. In quel periodo la radio svedese aveva cominciato a pubblicare su internet i loro documentari con le traduzioni in inglese. E quindi per la prima volta si scopriva che cosa stavano facendo gli svedesi alla radio. E Martin Johnson era appunto un 27enne che aveva fatto questo documentario che raccontava un viaggio che lui aveva fatto in bici sulle orme del viaggio che aveva fatto suo padre dieci anni prima quando aveva deciso di abbandonare la famiglia. Anche qui la radio dell'epoca era appunto il programma più ascoltato della radio nel 2007, era lo Zodi 105 che suonava ed era una radio senza spazio, era tutto davanti alle orecchie, tutto schiacciato, mentre il documentario che aveva fatto Martin suonava progettato suonava progettato. E quindi avevo deciso che volevo fare quello. E ovviamente in quel periodo la radio, la RAI aveva chiuso i documentari e anche i radiodrammi e quindi ho cominciato a farli come lavori da fare dal vivo. Cioè io comunque avevo questa esigenza di produrre e ho incontrato in quel periodo più o meno, non proprio nel 2007, qualche anno dopo, però nel 2007 ho cominciato a fare i miei lavori a caricarli online su dei siti con dei file audio e poi nel 2011 ho fatto il mio primo podcast che si chiamava Ritratti e lì ho cominciato appunto a chiedermi che cos'è un podcast e come funziona. Allora, quello che sappiamo di che cos'è un podcast e che è molto importante anche sapere che è l'unica cosa che sappiamo è che il podcast e il podcasting è un insieme di operazioni che consentono la distribuzione di contenuti audio attraverso una tecnologia di aggregazione di file che si chiama FeedRSS. Questa è l'unica appunto cosa che sappiamo, cioè sappiamo qual è l'elemento tecnico. Non possiamo dire, e questo è un... se qualcuno di voi si interessa o si interesserà di podcast, è uno dei grandi uno dei grandi modi per perdere tempo nella vita e chiedersi che cos'è un podcast, cioè questo è un podcast, no? È un programma radio, questo no, questo non è un podcast, questo sì che è un podcast, questo no. In realtà qualsiasi contenuto audio che viene trasmesso con questa tecnologia è un podcast perché il podcast è semplicemente una tecnologia di distribuzione. Conoscere questa tecnologia di distribuzione è uno degli elementi che ti fa capire quali sono poi gli elementi caratteristici di quella tecnologia di distribuzione perché così come chi fa cinema può fare un film se il suo prodotto va in una sala cinematografica o può fare una serie tv se il suo prodotto viene distribuito invece su una piattaforma come Netflix. Quindi conoscere la tecnologia di distribuzione e come funziona ti fa cambiare il contenuto ma non è un contenuto che ha una forma di per sé. Mi ricordo che la prima volta che ho fatto questo discorso in una formazione quella settimana era uscito un podcast che era tipo primo in tendenza su Spotify che era un podcast di bestemmie fatte con i software vocali e quello alla faccia di chi dice che i podcast sono le cose narrative era tecnicamente un podcast. E questo perché per come è organizzata diciamo così la nostra comunità il nostro mondo gli ingegneri gli scienziati buttano delle robe lì e dicono noi abbiamo inventato questa roba vedete voi se riuscite a farne qualcosa e quindi prima arriva la tecnologia e poi il mondo cerca di capire che cosa se ne può fare quindi la scoperta tecnologica anticipa sempre l'elemento di innovazione di contenuto che poi si può provare a fare tant'è che appunto la radio che è appunto la sorella maggiore del podcast quando era stata inventata suonava così che è comunque meglio dello Zodicino però non aveva un non aveva dei contenuti era semplicemente un elemento tecnico bisognerà poi aspettare nel 1900 quando da noi appunto si dice sempre perché la radio l'ha inventata Marconi in realtà Marconi ha inventato il telegrafo senza fili la radio parlata quindi la voce alla radio è stata fatta per la prima volta da un canadese che si chiamava Reginald Fessenden che per la prima volta nel 1900 trasmette un messaggio di voce con un microfono e appunto la radio scientificamente diciamo così tecnologicamente funzionava così c'è un emittente quindi una grossa antenna che spara fuori un segnale c'è un ricevente che riceve quel segnale dall'antenna e come vedete sono due dimensioni molto diverse una è una grandissima antenna l'altra è una piccola scatoletta e di mezzo c'è una trasmissione che è quella che abbiamo sentito prima che fa e ci sono voluti degli anni per passare dalla trasmissione intesa come segnale alla trasmissione intesa come contenuto e a cercare di capire che tipo di contenuto fosse adatto per quel tipo di trasmissione e cominciamo qui un attimo a rispondere a un'altra domanda del perché i podcast più figli sono americani perché gli americani sono più intelligenti quello sicuramente no perché hanno più soldi quello potrebbe essere però c'è anche un motivo molto tecnico per cui i podcast sono esplosi negli Stati Uniti e ancora è il mercato che appunto dove uno può fare quello per campare diciamo e il motivo è che in tutti i paesi del mondo tranne l'America quando si è inventata la radio la radio si è strutturata come monopolio di stato cioè c'era una radio sola perché costava troppo farne una negli Stati Uniti non è così ovviamente lo Stato dice arrangiatevi voi se vi piace la radio fatevela noi non la facciamo e quindi si cominciano a nascere tantissime radio locali come vedete distribuite quasi tutte sulla costa orientale e nel quello che si chiama il Midwest quindi la metà in alto e e qualcosina in California ma poca roba e poi tutte queste piccole emittenti locali si si mettono in connessione tra loro però lo spazio è troppo c'è il terreno il territorio è troppo esteso per fare delle antenne di Stato e quindi nascono tutte stazioni locali diciamo che nel podcast uno dei programmi che si cita sempre come esempio che ha innovato lo storytelling eccetera era questo programma che è nato nel 96 che si chiama This American Life un anno prima era stata fondata questa società che si chiama Public Radio Exchange perché tutte queste radio piccole che si interconnettevano tra di loro dovevano appunto fare una compravendita di programmi e di contenuti per farvi un esempio di quanto complicata è la situazione una cosa che ho fatto io negli Stati Uniti che è andata in radio che è stata comprata da Public Radio Exchange per andare in radio è andata in radio nell'arco di sei mesi quindi tipo a novembre sulla radio di New York poi a dicembre San Francisco poi in tutte le città diverse non è andata in onda su tutto il territorio nazionale contemporaneamente perché anche This American Life che era un programma che veniva fatto a Chicago veniva fatto a Chicago mandato in onda sulla radio locale di Chicago poi caricato su questa piattaforma che si chiama Public Radio Exchange dove tutte le altre radio degli Stati Uniti che nel 96 più o meno la loro conformazione era questa quindi tutta questa miriade di piccole stazioni cercavano materiale trovavano delle cose dicevano e decidevano se comprarlo o no quando è arrivata la tecnologia del feed RSS improvvisamente This American Life poteva caricare il suo programma in podcast ed era disponibile per tutti gli Stati Uniti ovunque nello stesso momento quindi è il grosso motivo per cui negli Stati Uniti ci ha messo poco a partire questa roba e da noi invece ancora fa fatica di ingranare anche le radio non solo da noi anche la BBC è stata molto lenta nel fare contenuti in podcast perché dove c'è un monopolio di Stato e dove una cosa viene mandata in onda contemporaneamente ovunque anche dalle radio commerciali non c'è questa esigenza di avere anche una piattaforma digitale o non è così diciamo che appunto dopo quando diciamo arriva internet tutte quelle piccole radio locali cominciano un po' a manifestare l'esigenza di avere dei contenuti audio on demand anche prima che arrivi il podcast nel 2003 per esempio c'è questa piattaforma un documentarista che si chiama David Isay raccoglie dei soldi fa una fondazione raccoglie dei soldi e apre questo portale che si chiama Sound Portraits che è uno dei primi portali di contenuti da ascoltare on demand come vedete questo è appunto uno screenshot della pagina nel 2003 ci sono già degli elementi che cominciano a far capire che la radio su internet è un pochino diversa dalla radio come l'avevamo conosciuta innanzitutto c'è un'immagine ed era una cosa che la radio prima non aveva mai dovuto avere perché quando tu andavi in macchina giravi la manopola e ascoltavi quello che usciva adesso qua deve un po' presentarsi il contenuto deve dire la mia immagine è questa io sembro così e l'immagine deve appunto centrare con quello che ascolterai perché l'altro cosa nuova che c'è che prima non c'era è qui vedete con tutti gli indicatori dei modem di allora diversi che si potevano usare a seconda della larghezza della banda è che bisogna far partire l'audio non basta far girare una manopola come per la radio ed esce contenuto che già sta andando il sistema è silenzioso è nullo è zero e bisogna farlo partire premendo un tasto play e quindi anche l'immagine deve servire per farti venire voglia di premere il tasto play perché appunto piano piano adesso cominceremo a dirlo la cosa che fa la differenza nei podcast rispetto agli altri contenuti è che si preme il tasto play per ascoltarlo poi ci sono altre cose nuove tipo le aggiunte le cose collaterali tipo in radio non ti potevi anche leggere la trascrizione di quello che ascoltavi per esempio mentre qua lo puoi scaricare lo puoi fare e poi che c'è un testo una descrizione di quello che stai ascoltando quindi anche qui serve per far venire voglia a qualcuno di premere il tasto play nasce poi nel 2005 quindi c'era già questa voglia di pubblicare online le cose finché appunto da una cosa messa insieme da varie cose nasce questa tecnologia dell'RSS feed nasce nel 2005 che è una tecnologia molto complicata rispetto a quella della radio che era molto semplice perché perché il podcast funzioni perché la tecnologia funzioni quello che serve ci va una produzione cioè quello che viene fatto non può essere fatto in tempo reale deve essere prima realizzato e prodotto una volta che è finito il prodotto abbiamo il nostro contenuto il nostro file audio questo file audio va messo da qualche parte va proprio parcheggiato su una piattaforma di hosting su uno spazio nell'internet diciamo così che funziona esattamente così funziona come un parcheggio come quando si parcheggia la macchina al centro commerciale per cui tu arrivi al centro commerciale e tu sai che hai parcheggiato ad F5 ok il tuo audio rimane lì come una macchina al centro commerciale aspetta che qualcuno vada a prendere da quel momento la piattaforma di hosting da un indirizzo che è appunto l'RSS feed che da un lato viene mandato a dei player quindi quando prima Ludovico diceva lo potete ascoltare su Spotify su Spreaker eccetera quelli sono dei player cioè sono delle applicazioni che raccolgono degli indirizzi e dal quale accedi al contenuto da qui si aprono le due grosse sfide per chi fa un podcast e quindi anche qui cominciamo un po' a dirci quali sono poi delle cose da tenere a mente quando uno vuole fare un podcast una è la scopribilità diciamo così cioè essendo che non c'è più un monopolio essendo che potenzialmente ognuno può farsi un podcast questo comporta il fatto che ad oggi ci sono più di due milioni di podcast su iTunes su Apple Podcast di cui almeno un milione duecentomila sono attivi cioè vuol dire che pubblichano almeno un episodio all'anno farsi scoprire all'interno di quel mare è molto molto complesso ed è una delle grosse sfide per chi fa i podcast la seconda diciamo destinazione che ha l'RSS feed è verso l'ascoltatore che appunto costruisce con chi fa la produzione un rapporto di community quindi la seconda diciamo così sfida che ha chi fa il podcast è una volta che si è trovato qualcuno che ti ascolta è mantenerlo e costruire una relazione con lui quindi tutta la questione che cos'è un podcast si risolve in questo passaggio le due grosse sfide per chi le fa sono appunto riuscire a farsi scoprire e trovare la propria community questa è stata una cosa che da subito è stata un problema qui per esempio adesso vi faccio sentire un'intervista fatta a un giornalista del Guardian che è l'uomo che ha scoperto la parola podcast che ha inventato la parola podcast e ho messo e ho messo e ho messo e ho messo con about 10 minuti a go before the press è riuscita e ho messo i get un email back very very quickly from the sub-editor saying brilliant piece but it's about 20 words short can you just pat it out a little bit e ho messo so I sort of re-read the piece that I'd written and realised that the phenomenon that I was talking about didn't have a name and so I sort of made up this sentence which said something like but what do we call this new phenomenon and then I made up some words and one was audio blogging and then there was guerrilla media and then the last one was podcasting and I sort of sent that off and everything was fine and then six or seven months later I got an email from the Oxford English Dictionary saying hey this podcasting word where did you get that because you're the earliest citation that we can find and I said well you know basically I made it up it was really close to a deadline sorry and they said well great it's word of the year fabulous e qui diciamo la question podcasting incrocia un altro elemento che è che nel 2001 Apple e Steve Jobs in prima persona aveva rilasciato questo player fisico che si chiamava iPod che veniva utilizzato per ascoltare musica quindi si poteva comprare della musica scaricarla sull'iPod e ascoltarla ed era la prima piattaforma di compravendita di contenuti digitali quando la parola podcast comincia a diventare di moda ora vi salto il video dove lo facciamo perché sono un po' lungo però quando questa parola comincia a diventare di moda Steve Jobs lancia i podcast dentro iTunes perché è dentro l'iPod perché il business musicale era in perdita cioè costava di più ad Apple vendere le canzoni che non quante ne vendesse in realtà perché ci sono tutte questioni di diritti d'autore eccetera e capisce che con i podcast può avere tantissimi contenuti gratuiti a cui non deve pagare niente in diritti d'autore che le persone vogliono ascoltare e e quindi può vendere più iPod più lettori fisici senza dover per forza aumentare i servizi che ad Apple costano e Steve Jobs fa un'operazione molto semplice comincia a denunciare essendo che appunto la parola nata così per caso è podcasting comincia a denunciare chiunque usi la parola podcast e a fare causa soprattutto come business e comincia a dire che il podcast è una roba di Apple e qui appunto c'è una presentazione ma faccio vedere molto velocemente dove loro hanno appena divorziato tra l'altro Bill Gates e Melinda quindi qui presenta come funziona il podcast fa vedere come si caricano eccetera e qui da quel momento in poi diciamo che la cosa interessante è che qui praticamente Steve Jobs lo definisce dice che i podcast sono il Wayne's World of Radio Wayne's World era un film che c'era in quegli anni che da noi era passato si chiama Fusi di testa ed era perché quando il podcast era nato nel 2005 era veramente una roba da sfigati che si facevano una roba in garage anche molto gente molto pesante un po' americanosa di destra che doveva fare tutte le loro robe i fucile le armi ed era un po' noiosetto quindi ha avuto un picco di partenza e poi si è abbassato questo perché nel frattempo qui c'è un'altra parte di video dove fa vedere che fa vedere che ACRW che è la radio pubblica di di Los Angeles aveva caricato un podcast con alcuni episodi cioè la radio pubblica americana quindi dove si facevano dei contenuti di alto livello con grossi soldi comincia appunto a scoprire come vi dicevo prima il podcast come una possibilità di distribuire i propri contenuti contemporaneamente ovunque da lì inizia appunto un percorso che è quello che si chiama che io chiamo Radio Revolution ok la Radio Revolution nasce da questo elemento molto semplice si comincia ad ascoltare audio la radio premendo il tasto play come si faceva con la musica e questo spinge i contenuti audio in una direzione molto vicina molto più vicina alla musica che non alla radio che poi appunto da qui in poi si chiamerà radio di flusso e succede che dei generi che erano dei generi un po' particolari un po' strambi della radio come i radiodrammi i documentari le cose che avevano un inizio uno svolgimento alla fine diventano i contenuti perfetti per questa tecnologia perché premendo il tasto play si fa iniziare qualcosa non si entra a metà come in un programma radio ed essendo che c'è molta competizione o mi catturi l'attenzione nell'arco di 5 secondi oppure io passo ad altro e quindi la tecnologia aveva questa novità di dover premere un tasto play per far partire un audio e questo cambia il tipo di contenuti che le persone cominciano a pensare appunto come vi dicevo ci vuole un po' di tempo perché le persone cominciano a capire cosa si può fare con il mezzo ed inizia questo percorso che dal 2006 più o meno fino al 2014 This American Life era un programma di storytelling è quello che ha diciamo così esportato questa parola orrenda che è storytelling ed è un programma che aveva appunto delle storie per storie di persone americane che avevano proprio l'inizio e lo svolgimento e la fine cosa che in radio era una cosa un po' strana e comincia a diventare il programma più ascoltato degli Stati Uniti da quando è disponibile in podcast Radio Lab è un altro programma che parla di scienza e che usa tantissimo sound design e lavorano tantissime lavorano tantissimo per fare una puntata però in podcast questo non è più un problema perché non è che devi andare per forza in onda una volta alla settimana quando ce l'hai pronto metti l'episodio e vai e quindi ci si può permettere di lavorare molto tempo poi sul front questi sono due appunto This American Life a Chicago Radio Lab New York a Los Angeles ci sono le Kitchen Sisters che fanno dei programmi per NPR che diventano dei programmi molto seguiti in podcast perché appunto sono programmi di storie dei documentari ben fatti in Inghilterra c'è Alan Hall che è quello che vedete con le cuffie in testa e la testa davanti che registra che è un microfono a forma di testa e poi diciamo il primo elemento simbolico è che nel 2011 un episodio di un podcast che si chiamava The Truth che si chiamava Moon Graffiti che era la storia dello sbarco sulla luna se fosse andato male quindi tutto il racconto di Armstrong eccetera che rimangono incastrati lì e non possono ripartire e quindi sono costretti a morire lì è l'episodio che viene compravenduto di più su quella piattaforma che vi dicevo prima che è Public Radio Exchange quindi per la prima volta un episodio di un podcast supera un programma radiofonico nelle compravendite di contenuti nel 2014 appunto si crea una sorta di tempesta perfetta qui se andate a vedere quanto è stato cercato la parola podcast su Google nel 2014 vedete che dopo il primo marzo del 2014 c'è proprio una punta c'è un picco e poi c'è questa onda che cresce che vedete diciamo esplosa nel tutto il 2014 nel grafico di sotto che inizia ad agosto a salire e poi piano piano sale e questa è la rappresentazione grafica della tempesta perfetta del 2014 cioè nel 2014 tutte queste cose che iniziavano a crescere a crescere improvvisamente esplodono tutto in un momento la prima cosa che succede è che a inizio anno alcuni podcaster si mettono insieme e dicono vogliamo fondare un collettivo che si chiama Radio Topia con alcuni dei migliori podcast indipendenti ci servono 250 mila dollari per fare tutti una stagione e ne raccolgono quasi un milione quindi era proprio il segnale che il pubblico voleva contenuti dateci roba di quel tipo lì perché a noi piace nel nel luglio nasce Gimlet che è la prima azienda che produce podcast la prima azienda privata che produce contenuti audio e pubblica il suo primo podcast che si chiama Startup poi Gimlet verrà comprata nel 2018 da Spotify per 250 milioni di euro dollari poi c'è una cosa che per me è molto importante che viene fatto questo questo episodio di un podcast il podcast si chiamava Audio Smart Audio Smart poi ha cambiato nome è diventato The Art e fanno un episodio a giugno del 2014 che si chiama Movies in Your Head che secondo me è l'episodio che esprime ancora adesso al meglio quello che si può fare con il podcast cioè che cosa cambia che cosa rivoluziona l'inserimento del tasto play nella modalità di ascolto l'altra cosa che succede qui tecnologica invece è che ad agosto Apple rilascia una versione di iOS quindi del software dell'iPhone che ha una nuova app che si chiama Apple Podcast che è separata dalla musica che è in home page e che è tra quelle che non si possono cancellare e quindi quello diventa un portale d'accesso preferenziale per i contenuti di quel tipo e poi c'è il chiodo sulla bara che arrivano a inizio novembre quando esce Serial che è questo podcast è una diciamo è una puntata di This American Life in tredici episodi e loro rappresentavano così allora è una storia giudiziaria che ha un omicidio all'interno ma che insomma racconta molti degli aspetti giuridici e sociali che hanno a che fare col tessuto degli Stati Uniti e che appunto arriva a fare il primo milione di ascolti poi i primi dieci milioni e diventa il podcast più ascoltato di sempre da lì in poi inizia appunto finisce la revolution perché inizia la industry questo per esempio è allora ve lo faccio vedere molto brevemente vi raccontavo di quell'episodio che si chiamava Movies in Your Head fatto da da questo duo che si chiamavano Caitlin Prest e Mitra Cavoli che hanno vinto l'anno dopo il Pre Italia che è il premio più importante di tutti e la cerimonia di premiazione siccome di solito sono le radio che ti pagano per andare a ritirare il premio e ti pagano l'aereo loro però si facevano il podcast in camera e quindi non potevano andare quindi hanno mandato il video di ringraziamento e Caitlin fa vedere come hanno prodotto quell'episodio ed è stato questo momento appunto dove la si è vista la rivoluzione anche visivamente perché tutte queste mega radio la BBC quella australiana la RAI Radio France è battute da una che aveva fatto il podcast nell'armadio Radio Smet studios ma ora con un heart quindi in realtà ho registrato tutto in qui e storyboard sull'episodio in realtà ok ho fatto questo e ringrazio tutte le persone che ho e qui poi avanti a ringraziare io cioè questa roba mi sbatte addosso esattamente lì cioè alla fine della revolution un po' mi infilo in coda perché nel 2015 organizzo per caso questo meeting internazionale di audio producer che venivano fuori da quel mondo lì ed era la prima volta che ci si incontrava tutti insieme e ci si diceva cosa facciamo con sta roba tra gli organizzatori c'era anche Caitlin da lì mi viene fuori la l'idea di partecipare a questo contest che si chiama podcast fatto da quel collettivo che vi dicevo prima si chiamava Radiotopia mando un'idea che si chiama Meet che era un podcast appunto sul corpo che abbiamo e come il corpo che abbiamo influisce sulle relazioni che abbiamo con gli altri su mille quasi milleseicento partecipanti arrivo tra i quattro finalisti questa era la notte che ho saputo la notizia della selezione che non riuscivo a dormire quindi mi sono a fare tutti i puntini ogni puntino era un partecipante poi appunto sono arrivato tra i quattro finalisti non ho vinto il contest l'ha vinto un altro podcast che si chiama Maria Russell ma poi Meet l'anno dopo questo era il gruppo dei finalisti e poi l'anno dopo però con Meet ho vinto il third cost award che è uno dei due premi più importanti che puoi vincere negli Stati Uniti se fai audio mi prendo altri 6-7 minuti se mi date il permesso per raccontarvi invece come diciamo così un po' il lavoro dall'interno e vi parlo un po' di problemi che è il podcast che ho in italiano che adesso è in un momento di pausa perché sto lavorando su un paio di produzioni grosse quindi non ho tempo per dedicarmici ma che da quest'estate in teoria dovrebbe un po' ripartire allora quando parte un podcast parte sempre un po' da l'occasione cioè perché lo si deve fare cos'è che mi manca perché lo devo fare che cosa mi consentirebbe di avere fare il podcast cos'è che che mi consentirebbe di raggiungere che senza non riesco a raggiungerlo con chi lo faccio cosa mi manca e che cosa ho già invece e poi su questo vedremo qualcosa riguardo a problemi e che cosa vogliamo che ci sia alla fine del podcast che in questo momento non c'è cioè deve avere un obiettivo e dobbiamo definire degli indicatori di risultato per farci capire che siamo riusciti a fare qualcosa con quel podcast premesso anche che appunto è una piattaforma di distribuzione audio quindi uno può fare un podcast anche solo per occupare un'ora del suo tempo la giornata e non lo ascolta nessuno ma per quello che mi riguarda che appunto di lavoro faccio audio dopo che avevo fatto quell'esperienza negli Stati Uniti con Meet essendo in Italia vivendo in Italia avevo il problema che quando è partito il podcasting anche in Italia mi chiamavano a parlare di podcast ma io non avevo niente da far sentire perché avevo o delle cose fatte per la RAI però erano più documentari non erano dei veri podcast quindi mi chiedevano ma come lo ascolto dove lo trovo eh niente la RAI l'ha tolta da tutto è andato in onda tre anni fa e basta e oppure avevo una roba in inglese che la gente ascoltava e non capiva niente e quindi avevo diciamo così delle esigenze uno era appunto avere un podcast in italiano da far sentire quando dovevo parlare di podcast avere uno spazio di sperimentazione sul podcast come mercato perché io avevo visto e tuttora lavoro sul mercato americano ma il mercato italiano stava iniziando e quindi mi serviva un contenuto per stare lì dentro e capire come si stava evolvendo il mercato italiano una cosa che non avevo mai fatto tanto era di star dietro la community cioè mentre avevo lavorato un po' sulla discoverability con Meet la parte della community io avendo lavorato in radio non la potevo neanche fare addirittura perché se ne occupava ovviamente la radio quindi provare a vedere come funziona il partire da un podcast per costruire la propria community di ascoltatori e misurare l'andamento del podcast e il come andava partendo dal fatto che non ci mettevo una lira dentro in modo che se poi un giorno mi viene qualcuno e mi dice ho 30.000 euro da investire io posso dire guarda io con zero ho ottenuto questo quindi con 15 proviamo a ottenere quello la prima cosa che ho fatto è stato fare ricerca quindi cercare di capire cosa c'era nel mercato e cercare di capire che cosa mancava anche in modo né da ripetermi ma anche di andare a soddisfare una mancanza che gli ascoltatori potevano avere ho usato molto banalmente Google facendo tutte le ricerche più banali ho cominciato a guardare le classifiche pur sapendo che le classifiche sono delle classifiche editoriali cioè non rendono perfettamente i numeri fanno anche delle scelte editoriali rispetto ai contenuti e comunque alla domanda come fate le classifiche non hanno mai voluto rispondere e ho cominciato a chiedere in giro a costruire delle relazioni a cercare di capire che cosa sta facendo uno cosa sta facendo l'altro andare a tutti questi incontri sul podcast e parlare con tutti e avevo visto appunto guardando un po' lo scenario che c'erano queste cose allora lavorando appunto lavorando anche a una piattaforma e quindi vedendo come vanno i podcast il podcast che nel 2019 secondo me era andato a meglio era questo podcast di Giacchidale che era uno youtuber gamer che aveva smesso di giocare e si era stufato e aveva cominciato a fare questo podcast dove parla di niente fondamentalmente e partendo dal fatto che lo faceva da solo che non ci metteva tanto investimento e faceva molti ascolti era un podcast che per me aveva poteva centrare con quello che volevo fare io in qualche modo poi c'erano due filoni di contenuti di podcast uno erano i podcast motivazionali tipo quello della Maugeri quelli di Montemagno insomma podcast per menti deboli che mi chiamo io e poi invece c'erano i podcast che centravano di più con il mondo da cui venivo io quindi quelli più narrativi dove dentro c'erano quello di Matteo Caccio c'era Veleno di Pablo Trincia c'era Morgana e quindi la mia idea era di provare a combinare questi due mondi e di fare una sorta di podcast demotivazionale narrativo ho cominciato appunto a chiedermi qual era l'obiettivo del mio podcast un'altra cosa importante ho definito gli indicatori di risultato che sono la cartina di tornasole che mi faceva capire se avevo avuto successo o meno quindi per esempio sapendo che io partivo in investimento a zero il mio risultato non era arrivare prima in classifica ma era entrare nei primi 200 per esempio mi sono chiesto che cosa dovevo fare per raggiungere quei risultati quindi ho definito le mie strategie quali erano tutte le azioni che dovevo fare quindi per esempio che microfono usare come registrare che tipo di stile utilizzare con l'audio e mi sono fatto appunto il budget per essere sicuro di 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 starci dentro indicatore risultato di problemi era far crescere il mio account di instagram io ho un account di instagram inutile che usavo solo per mettere le foto quando andavo in ferie e questo appunto è una roba misurabile tant'è che appunto da quando ho iniziato problemi il mio account inutile è passato da 700 a 3000 adesso sono 3700 erotti follower quindi posso misurare qual è il tasso di crescita della community arrivare ad un range tra i 5000 e i 10.000 ascolti a puntata e adesso la puntata che è stata ascoltata di più sta a questi sono numeri in realtà che avevo tirato giù un mesetto fa comunque sta ancora più o meno lì un po' meno di 10.000 e quella meno ascoltata più di 6.000 quindi sono ho raggiunto il range che volevo raggiungere avere una copertura stampa eccetera per cui a un certo punto è anche uscito un articolo di Esquire che diceva che Problemi era il miglior podcast italiano per cui perfetto anche questo indicatore raggiunto e l'altra cosa era essere copiato che era una cosa a cui tenevo molto ed è successo perché c'è stato uno che ha fatto proprio un podcast identico e l'hanno anche l'hanno anche sgamato e è stato costretto a ritrattare e più o meno ho fatto tutto da solo appunto venendo dall'audio però c'erano un paio di punti in cui avevo bisogno di supporto il primo è la sigla quindi la sigla l'ho fatta io però faceva veramente tanto schifo e l'avevo registrata in bagno con dei campanellini infatti quindi il tema l'ho composto io e poi l'ho affidata da delle altre Marco Giudici che sono sia musicisti che produttori dicendogli sistemate un po' la scrittura ma anche la produzione quindi questo era io che lo suonavo in bagno perché volevo riprendere il riverbero del bagno eccetera e poi invece l'ho dato loro ah questa era la sigla che mi era venuta fuori alla fine inascoltabile e invece questa è poi la sigla come l'hanno fatta Adele e Marco e quindi questo staccava anche dal resto del podcast e per me era perfetto sentite questo urlo finale che c'è nella sigla che appunto richiama un po' il lavoro che abbiamo fatto sulla parte visiva con tutto tonno che adesso vi faccio vedere queste sono le casche quattro cagate le lezioncine per come si fanno i podcast fatti bene però le slide ci mettono un po' andare avanti per la diffusione ho lavorato invece con tutto tonno Cecilia Grandi che è un artista che a me piace molto e abbiamo fatto tutto un lavoro di ricerca per cui prima abbiamo fatto tutta una ricerca su cioè il tema del podcast era anche appunto un po' questo personaggio che cerca un po' di svoltare quei podcast perché è arrivato all'età d'oro dei podcast per cui è la sua grande occasione quindi abbiamo cominciato a guardare tutte le robe di svendita e tutta quella roba lì poi abbiamo fatto tutto un back and forth di proposte eccetera e poi alla fine è venuta fuori la copertina che avete visto prima poi la rivediamo dove c'è che nasce da un disegno di uno che cade in bici che poi Cecilia ha un po' ripreso un po' rifatto per cui poi l'urlo che c'è nella fine della sigla riprende quell'elemento lì della grafica e poi ho fatto appunto dei template per annunciare le puntate perché non ha un'uscita regolare quindi quando manca una settimana all'uscita più o meno faccio uscire queste stories ah questa è la copertina appunto che è venuta fuori la copertina della puntata per i social e la copertina invece per il player in modo che chi ascolta capisca che è la puntata 2 la puntata 3 eccetera uscivano appunto queste stories per annunciare l'uscita dell'episodio problemi problemi tutte robe peccate in giro di gente che non sta tanto bene diciamo e e basta questi poi sono appunto un po' di video di risultati qui è stato quando è entrato nella top 100 è arrivata a 45 problemi questo era questo era un risultato mi è scappato il dito non ve l'ho anticipato prima ma è un risultato che ha a che fare con la community perché appunto era un una persona che mi seguiva su instagram che mi ha mandato questo video di uno scambio su whatsapp con una persona a cui lui ha suggerito il podcast lei lo conosceva già e hanno cominciato a mandarsi degli elementi di così di segnali di cose che c'entravano con il podcast e poi in una puntata dove c'era un omaggio a una persona che è morta durante il covid che era il cantante di un gruppo che si chiama Camillas io ho fatto un appello su instagram dicendo chi vuole partecipare a questo omaggio mi scriva e ho chiesto alle persone di cantare il coro di cioè il ritornello di una canzone di Camillas e mi sono arrivati circa 25 voci che poi sono state montate insieme dentro questo coro e questo è il video della prima volta che l'ho messo insieme ancora non trattate non lavorate e l'altra cosa ma no questa saltiamo perché è solo capitalismo e vabbè comunque ho fatto le magliette suonate bene la campagna i ragazzi di Natale però siccome appunto mi era stato chiesto di dire come si fa a fare un buon podcast ho fatto comunque il decalogo che fa sempre figo però ho basato sui miei personalissimi criteri di successo quindi non è se vuoi fare un podcast tipo quello di Selvaggia Lucarelli non devi seguire queste indicazioni devi seguire le indicazioni di Selvaggia Lucarelli che le ha date a Mara Venier per cui non sono disponibili a tutti allora la prima è quella tra l'altro sono tutte cose che io dico sempre la prima regola aspetta che però vi devo spostare che se no non leggo aspetta anche devo le ok allora la prima è essere belle persone perché appunto secondo me la prima regola è che le belle persone non possono fare brutti podcast e neanche viceversa cioè le brutte persone non possono fare dei podcast e quindi o diciamo non possono fare della buona radio secondo me altri punti che ci sono dopo derivano da lì quindi li vediamo dopo l'altra cosa è non accontentarsi di fare delle cose secondo punto non accontentarsi di fare un progetto così e così cioè comunque da quando si parte al lavoro finito c'è tanto lavoro di contrattazione di problemi di tempo problemi di soldi quando si lavora con altri problemi relazionali per cui il progetto cambia tanto rispetto alle ambizioni iniziali quindi meglio puntare a fare la cosa migliore possibile perché poi appunto c'è tutto un lavoro di abbassamento spesso per cui per essere sicuri di avere alla fine una roba decente meglio partire facendo un progetto molto ambizioso la terza cosa è essere onesti questa roba ci credo un sacco secondo me gli ascoltatori annusano magari non sulla brevissima distanza ma dopo un po' annusano quando qualcosa non è non è autentico quindi soprattutto nel lavoro di costruire una propria community di propri ascoltatori non barare e fare effettivamente le cose che fai parlare delle cose che pensi dire le cose che pensi e cercare di costruire il tuo percorso partendo da quello che c'è già senza andare a prendere delle cose perché vanno di moda in quel momento questa è una roba che che ha detto diciamo uno dei primi uno di quelli che ha capito come fare una trasmissione radio negli anni 30 partendo dal contenuto che lui appunto diceva che quando la radio faceva educazione non funzionava non ascoltava nessuno ma che il segreto era dare al pubblico quello che voleva quindi anche intrattenerlo se bisogna intrattenerlo rilassarlo se bisogna rilassarlo se bisogna rilassarsi e di infilarci dentro qualcosa che tu vuoi che il pubblico abbia cioè non sovrastarlo con quello che tu vuoi dire ma di costruire una relazione e infilarci dentro quello che tu vuoi dire questa è una roba molto importante non è non deve essere un ostacolo però deve essere un percorso cioè comunque il podcast è a che fare con l'audio e l'audio non è una cosa nata nel 2005 o diventata nel 2014 ma una lunga tradizione quindi l'audio va studiato va praticato va conosciuto e e bisogna fare un lavoro audio che sia rispettoso degli ascoltatori di chi ascolta e quello secondo me è molto importante ascoltare molto tutto e sempre anche perché il podcast il mercato dei podcast è in continua evoluzione quello che è un podcast quest'anno l'anno dopo sarà un'altra cosa per cui ascoltare tanto rimanere aggiornati su quello che c'è non fare le cose per se stessi e cioè quando si fa un podcast cercare non di pensare a quanto quel podcast potrebbe portarti ah se io faccio questo poi è avere un po' la mentalità da digital marketer se io faccio questo poi allora riesco ad ottenere questo riesco ad ottenere questo ma di pensare che lo stai facendo per qualcosa di più ampio perché stai contribuendo a un discorso perché stai facendo passare del tempo a qualcuno perché magari ha voglia di crescere in qualcosa secondo me anche questo è molto importante definire appunto i tuoi parametri di successo e non farteli imporre soprattutto quindi può anche essere che un parametro di successo è io voglio riuscire a fare una cosa una volta alla settimana per un anno indipendentemente da chi lo ascolta quindi essere i proprietari dei propri parametri di successo rispetto ai podcast osservare quelli che sono i riscontri quindi non solo riceverli non solo avere i feedback ma anche capire che cosa c'è dentro andare a vedere che cosa ti dicono che cosa che cosa ti scrivono quali sono i commenti e partire da lì per pensare che cosa il tuo pubblico potrebbe volere e poi l'ultimo che secondo me cioè potrebbe anche essere il primo cioè secondo me quando un podcast non è un buon podcast lo scopri subito cioè secondo me appunto tante volte parte il ok questo podcast non è un gran che quindi devo coprire e far finta che sia figo e pomparlo tantissimo ma secondo me come primo ascoltatore già lo sai se è una roba che è ben fatta oppure no basta ho finito grazie Jonathan super interessante io ti ho detto prima che fangorlo su questa cosa e vabbè volevo chiedere se qualcuno avesse qualche domanda la può fare smutandosi oppure la scrivi in chat a me oppure la scrivi direttamente nella chat te la leggo e se no darò un po' io il ghiaccio che avrei una domanda e allora una cosa che vabbè in realtà volevo chiederti cioè così dall'inizio dell'evento poi insomma ne hai parlato anche tu cioè proprio questa cosa della community perché cioè me ne sono resa conto subito ascoltato cioè il primo podcast tuo che ho ascoltato è stato problemi cioè credo tipo di averti scoperto quando avevi fatto uscire il secondo episodio quello su VCK no e la prima reazione che ho avuto è stata ok tipo c'è una persona che riesce a parlare per un'ora e mezza un'ora di una cosa che io penso esattamente così però quando ne parlo con i miei amici magari o comunque quando cerco di pensarci ad alta voce così non riesco a dirla in maniera così ordinata cioè ho avuto questa impressione qua e me ne sono accorta dopo ascoltando altri cioè gli altri episodi problemi dei limit eccetera che cioè effettivamente mi sono resa conto cioè proprio non mi stupisce il fatto che si sia creata una community di questo tipo cioè non so se è una cosa a cui tu avevi aspirato in questo modo o in generale ad una community perché io sento proprio cioè anche banalmente quando vedo che condividi le storie di qualcuno che scrive anche un commento di due righe su Instagram e condivide l'episodio no cioè sento che le persone cioè ti fai capire davvero delle persone non so se ha senso questa cosa qua e volevo sapere se è una cosa a cui tu aspiravi in questo modo se c'è un modo per creare questo tipo di scambio con un file audio alla fine perché cioè magari con un contenuto video sarebbe più semplice crearla questa cosa qua cioè perché succede con un audio beh allora l'audio ha una cosa per esempio rispetto al video per cui quando si parla poi della parte di produzione io parlo sempre della suonosfera perché l'audio è una specie di palla che ti circonda la testa e se per esempio tu vai al cinema a vedere un film ti devi sedere lontano dallo schermo per poterlo vedere mentre l'audio ce l'hai tutto intorno ce l'hai sotto e questa è una delle cose che funziona appunto non è una roba dei podcast ma è una roba dell'audio per cui anche il racconto delle monache di clausura se te lo metti ad ascoltare al buio in stanza in cuffia ti tira dentro non mi aspettavo quei risultati sulla community cioè quello su cui ho lavorato è non devo fare delle cose per ottenere quei risultati devo fare delle cose per ottenere dei risultati vediamo che risultati sono e secondo me sono intervenute appunto facendole scoprendo le cose facendole sono intervenute delle cose che ho scoperto strada facendo appunto la roba anche di essere onesti vale nella scrittura ma vale anche nel tipo di rapporto che costruisci per esempio anche spenderci il tempo per rispondere a chiunque ti scriva anche solo una riga per dirti una roba anche perché a volte arrivano delle robe essendo che vado a toccare dei temi abbastanza delicati spesso arrivano delle robe anche molto delicate quindi prendersi anche il tempo per dialogare poi chi fa questa cosa di lavoro cioè questo sarebbe quello che hai detto tu sarebbe la roba migliore del mondo cioè che nella comunità diciamo così nella vita delle persone tutti fanno le loro robe a un certo punto c'è una cosa che è aggrovigliata ed è aggrovigliata nel linguaggio e c'è qualcuno che lavora sul linguaggio che fa quello che Foucault chiamava mettere in ordine il discorso cioè osservare il linguaggio vedere chi dice cosa come lo dice come ne parla e provare a mettere insieme i pezzi in modo che abbiano appunto un inizio uno svolgimento una fine però quello appunto dovrebbe essere una roba che fa chi fa il mio lavoro insomma ci sono un po' di cose che dipendono dall'audio e un po' di cose che dipendono dal lavoro sul testo se non parla a nessun altro ti faccio una domanda io intanto in realtà tra i punti finali che hai detto mi ha fatto molto sorridere il punto mi sembra fosse il 3 o il 4 quello sul dire quello che vogliono gli altri però allo stesso tempo far passare un po' quello che vuoi fare tu perché mi ha ricordato molto quello che fanno i genitori che i bambini quando non vogliono mangiare le verdure quindi tipo nasconderle dentro esatto esattamente quella roba lì però no in realtà volevo concentrarmi su quello che poi un po' hai ripreso adesso tu parli appunto dell'importanza di quello che è l'audio io ho avuto un po' la fortuna di navigare un po' nel mondo della musica eccetera rimanendo però sempre strana a quello del mondo che è il service audio eccetera ne riconosco assolutamente l'importanza ma lo saprete un po' se hai dei consigli da questo punto di vista cioè come una persona che appunto non ha esperienza come può imparare un po' di cose senza fare c'è un percorso di diploma lauree eccetera in quello o da autodidatta ecco ma allora io ho avuto questa situazione abbastanza fortuita io e due o tre di quelli che appunto adesso fanno anche molto lavoro nei podcast eccetera noi abbiamo avuto una siamo stati tra gli ultimi per questione anagrafica di avere un apprendistato che era una roba che alla RAI c'era che poi hanno tolto cioè di poter stare in fianco a qualcuno pagati poco però pagati e imparare io mi ricordo che stavo proprio come i cagnoni di fermore a guardare quello che faceva e poi cercavo di riprodurlo secondo me l'apprendistato anche crearsi delle occasioni di apprendistato secondo me è ancora in modo migliore tant'è che questa è stata diciamo così l'occasione formale ma per esempio a me mancavano un sacco di cose proprio da tecnico da fonico audio avevo conosciuto un ragazzo che siamo diventati amici che lavorava in uno studio di registrazione e io andavo stavo lì delle ore a fare tutto quello che c'era da fare gratuitamente tipo 5-6 ore a settimana un paio di sere a settimana andavo lì e ogni tanto mi diceva ma prova a montare queste batterie oppure prova a mettere dei microfoni e questo era invece roba che facevo gratuitamente cioè per lui era un impiccio io però imparavo a fare le cose stavamo lì chiacchieravamo un po' ce la passavamo secondo me stare nelle cose farle più che fare i corsi anche perché i corsi soprattutto su una roba che parte un po' veloce in impennata come i podcast non sai mai bene cosa abbia fatto davvero chi insegna mentre appunto quando fai le cose tu vedi subito se uno le sa fare oppure no quindi stare fare e creare occasioni per farle anche cioè creare delle occasioni per cui le persone possano stare insieme e fare delle cose insieme impararle e impararle grazie non so se qualcun altro ha qualche domanda super la collaborazione con Adele e Marco Giudici Adele l'abbiamo conosciuta qui a Trento tramite un festival e ci piace molto è di là è dietro quella porta allora salutacela è venuta a questo festival qua a Poplar lo scorso settembre faccio un'altra domanda spot allora giusto per io volevo un po' chiederti a livello di collaborazioni quanto conta in tutto il lavoro che stai facendo perché tipo ad esempio penso a vabbè il podcast di Giulia De Pentor Camposanto quello anche cioè ritrovo un po' dei ovviamente vabbè sono due podcast completamente diversi però trovo qualcosa di quella roba che ti dicevo prima dell'empatia con le persone che ti ascoltano e anche l'episodio quello di problemi con i terremoti che tra l'altro cioè tipo piccolo spazio pubblicità ascoltatelo non in treno visto che adesso è obbligatorio tenere la mascherina un casino se piangi cioè poi inizia ti colano il naso no covid cioè è tremendo quindi e quindi vabbè volevo chiederti questa cosa qua un po' delle collaborazioni come si gestisce e quanto è importante per me è fondamentale tant'è che per esempio una delle delle cose che si dicono di me è che ci sono un sacco di robe che inizio e che e tra l'altro dovrebbe essere una delle dei temi della prossima cioè dovrebbe essere il tema della prossima fondata di problemi tante cose che inizio che poi chiudo e che poi ne inizio un'altra e poi chiudo ma è perché ne provo tante e per me la collaborazione è fondamentale non per esempio appunto problemi stesso non sarebbe lo stesso senza senza la musica che hanno fatto Adele e Marco senza tutta la parte visual che ha fatto Cecilia poi tutta la parte di merchandise che faccio con Legno con Jacopo cioè per me è molto importante perché fa la differenza tra il coltivare la pianta e coltivare il terreno cioè se tu coltivi solo la pianta e non coltivi il terreno di relazioni che ci sta sotto poi a un certo punto quella pianta lì non ha più niente da dare mentre perché se continui ad arricchire c'è bisogno di per esempio a me piace molto avere a che fare con i gusti degli altri sapere che perché io non posso leggere tutto ascoltare tutto vedere tutto però stare con le persone che ascoltano altro e vedono altro mi fa vedere le cose da dei punti di vista che sono inaspettati per me quindi per me è fondamentale poi ovviamente provandone tante alcune di queste o anche buona parte a volte non funzionano perché va un po' a tentativi però secondo me è fondamentale grazie io avrei una domanda allora io mi sono collegato più tardi quindi forse l'hai detto forse ne hai parlato ma me lo sono perso è sul timing no? cioè io non ti conoscevo quindi sono andata adesso a vedere dopo approfondirò più avanti i podcast di problemi cioè almeno su Spotify li vedo che uno tipo a novembre poi dicembre gennaio marzo e avanti e so ad esempio da YouTube ad esempio almeno all'inizio se non pubblichi abbastanza frequentemente è difficile crearsi l'audience e poi anche la community eccetera e mantenerla per un podcast vedo che comunque le distanze sono a volte molto elevate quindi che differenza c'è o meglio conta comunque il timing delle varie uscite più che il time allora dipende sempre dall'obiettivo che ti dai per cui per esempio il podcast che è andato meglio l'anno scorso secondo me insomma vedendo un po' i dati eccetera è un podcast di Will Media che si chiama The Essential che esce ogni mattina dura 5 minuti e tu sai che cascassa il mondo lo trovi e più che il timing però secondo me la cosa che fa la differenza è l'accordo che fai con i tuoi ascoltatori cioè gli ascoltatori di problemi sanno che arriva quando arriva perché è un progetto di ricerca e sviluppo non è un progetto su cui appunto si fa un guadagno eccetera per cui quando ci sono dei margini per lavorarci ci lavoro però questo gli ascoltatori lo sanno quindi non li deludo mentre quest'anno ho iniziato un altro podcast giornaliero che era uno spin off che si chiamava Problemi Daily e a un certo punto non sono più riuscito a fare il giornaliero perché anche quello era così un progetto di sperimentazione e poi ho iniziato a lavorare una produzione molto grossa e lì ho rotto il patto con gli ascoltatori e quindi poi riprenderli quando poi dopo due mesi ho ricominciato a pubblicare degli episodi ogni tanto è stato molto molto difficile quindi conta molto qual è il tuo patto per esempio su Problemi io so che se a luglio esce una puntata fa esattamente gli stessi ascolti di prima perché le persone sanno che quello è mentre quando rompi un patto è molto più complicato riprenderli io una domanda il tuo podcast preferito cioè quello che migliore che hai ascoltato e che sicuramente consiglieresti in inglese o in italiano entrambi allora in inglese è quello di cui vi ho accennato prima è The Art cioè per quanto poi ce ne siano altri che mi piacciono però per me il potere rivoluzionario di quel podcast rimane inarrivabile ha generato ha generato un mondo e tre mesi prima dell'esplosione del caso Weinstein e Me Too eccetera ha fatto una miniserie che si chiamava No sul consent nell'intimità che poi è diventato diciamo la miniserie di riferimento dopo che Esploso Me Too quindi anche questa capacità di anticipare un pochino le robe che stanno esplodendo secondo me è ancora il più forte di tutti quindi quello in inglese in italiano allora i podcast adesso mi piacciono tantissimo però c'è un programma che adesso momentaneamente l'hanno tolto ma dovrebbe tornare a breve sul canale dell'archivio della RAI che si chiama Radio Teche Te c'è un podcast involontario fatto negli anni 50 che si chiama Viaggio in Italia ed è fatto da Guido Piovene più che poi da quella serie ha scritto il libro quindi non viceversa e sono 80 episodi 80 racconti dell'Italia e appunto anche quando faccio formazione lo presento sempre come il primo podcast italiano perché è proprio strutturato così ci sono tanti episodi con tutte le località diverse una persona si può ascoltare la località che gli interessa e quello come progetto in generale è il mio preferito poi di quelli che ci sono adesso c'è diciamo il gruppo così con cui collaboro questo gruppo che si chiama Trigger dove dentro ci sta appunto Camposanto di Giulia Depentor che mi piace soprattutto mi piace lei il modo che ha di lavorare poi c'è Reclam che è forse uno dei miei preferiti che è un podcast che parla di pubblicità direi quelli Perfetto grazie Sparizioni è un altro podcast che mi è piaciuto molto fatto da Mutai Mago Io colgo la palla al volo in ambito musicale invece cosa consigli? I podcast sempre Ah ok Comprar di musica no beh anche di musica se vuoi però potrebbe diventare lunga la serata Allora una situazione è una questione complicata perché forse come sai non si può usare la musica nei podcast è tutto un po' un casino in italiano mi piace molto pop porno di Filippo Ferrari che racconta un po' così i miti le leggende metropolitane legate alla musica però lo fa in un modo che mi fa molto ridere e poi forse il più bello di sempre sulla musica è questo podcast che si chiama Song Exploder inglese che è fatto dentro Radiotopia dentro quel collettivo di cui vi parlavo prima dove in ogni puntata un autore smonta un suo pezzo e quindi c'hai i Bjork che parla o i Weezer o raccontano come hanno scritto un pezzo secondo me quello è uno dei più belli che sono mai stati fatti poi c'è anche l'anno scorso c'è la storia di Dolly Parton si chiama Dolly Parton's America anche quello era fatto da Dio era molto bello e quello era stato possibile perché Dolly Parton ha ceduto a Sony tutti i suoi diritti ha fatto un passaggio di etichetta discografica quindi Sony per far sì che poi le persone andassero ad ascoltarsi Dolly Parton su Spotify ha usato questo podcast per lanciare la sua inventory grazie ci hai dato la compagnia per questa sessione imminente e le pause se non levo la parola volevo fare una domanda anch'io e chiedo scusa se magari nella presentazione l'hai spiegato ma forse non l'ho intuito bene ma secondo te è più importante nella realizzazione di un podcast partire dall'idea dall'intuizione e poi lavorarci sopra oppure per te è più importante cioè è più importante dire vabbè io voglio fare il podcast e poi magari mi ci metto a ragionare su che cosa mi viene in mente da fare perché secondo me io l'ho ascoltato problemi l'ho sentito tutti più o meno e l'idea che mi sono fatta è che comunque forse tu ci coavi da sempre su tutte le puntate poi forse non lo so hai trovato come un denominatore sotto cui mettere le puntate non lo so no allora nel caso dei problemi la struttura è il contrario ma in generale a me viene da lavorare così cioè prima lavoro su quello che appunto la mia inquilina Dede chiama il mega mattone cioè prima lavoro sulla scatola e poi decido quello che voglio metterci dentro e c'è un listone cioè appunto quando ho cominciato a lavorarci un listone di problemi che ho e di cui vorrei provare a parlare e ne parlo quando i problemi che ho non sono problemi miei ma sono dei pretesti per allargare il discorso delle cose collettive quindi appunto la puntata che citava Ludovica su Louis C.K era un problema che avevo io che litigavo con le persone che andavano a vedere lo spettacolo però mi consentiva di parlare di comportamenti sul lavoro che era poi il tema più ampio quindi no a me viene più da fare da lavorare all'idea principale alla scatola e poi vedere quali sono i singoli episodi e però io anche perché non sono una persona tanto originale cioè non riesco tanto tipo mettermi con la scrivania contro il muro e farmi venire un'idea devo un po' stare nelle cose quindi anche lì l'idea mi viene se ascolto roba se vedo se vedo delle cose anche che trovo ridicole o anche patetiche certe volte allora mi viene voglia di fare qualcosa di diverso per rispondere un po' a quella cosa lì quindi non è mai un'idea così sgorgata da dentro ma è sempre un po' nella relazione tra le cose ok grazie ti faccio l'ultima domanda e poi giuro che io mi muto e non ti parlo più però di quest'ultima cosa che hai detto dello stare dentro alle cose viverle come hai vissuto la pandemia per trovare idee insomma siamo stati un po' meno dentro le cose meno dentro la vita sociale mettiamola così rispetto a prima questa cosa ha influito in un qualche modo o no? no non tanto no anzi in realtà ho avuto il problema opposto cioè in realtà ho avuto una moltiplicazione di di stimoli perché appunto quando cambia tant'è che appunto appena io ero lo racconto in una puntata che ero negli Stati Uniti quando quando è esploso il caso di Codogno sono arrivato due giorni dopo qui e che ancora si cercava di capire io quando sono arrivato a Malpenso ho acceso il registratore subito e ho registrato tutto perché era proprio evidente che era un momento anche se fosse durato una settimana due settimane due settimane era un momento che nella mia vita non era mai capitato prima quindi ho registrato tutto per esempio è successo per dirtene una che io i miei genitori sono giovani stanno bene abbiamo un rapporto diciamo così abbastanza rare fatto tranquillo ma non dobbiamo sentirci tutti i giorni durante la pandemia li sentivo tutti i giorni tutti perché poi i miei sono anche separati quindi chiamata papà chiamata mamma e poi chiamata mia sorella mia sorella io e mia sorella ci parliamo tipo due volte l'anno cioè andiamo d'accordo non abbiamo bisogno di sentirci ogni tre secondi però lì invece ci sentivamo come stai come va tutto bene il lavoro quindi in realtà sono aumentati molto gli stimoli anche di riflessione di pensiero quando poi a gennaio a febbraio ho ricominciato a girare anche col registratore con la differenza l'ho trovata nei movimenti cioè non ero più in grado di la prossemica che per me è molto molto importante è sempre stata molto importante nel mio lavoro era cambiata e quello non mi ero tanto reso conto tipo fare due ore di interviste con il contatto oculare era cambiato perché non avevo più il resto della faccia su cui contare quindi quello quello sì però invece le interazioni no quello no quello anzi sono aumentate perché c'era una roba nuova di cui parlare quindi figurati grazie va bene non so se qualcun altro ha qualche altra domanda nel caso ci facciamo avanti e nel frattempo vabbè io ringrazio Jonathan ci ringraziamo grazie a voi è molto piacere fare un po' questa questo evento chiacchierata e tutto e e niente fai un po' uscire una puntata di problemi che se no non andiamo avanti no beh dai scherzo nessuna questione veramente ne ho molta voglia nessuna questione ne ho molta voglia perché sto lavorando una produzione che detesto cioè in cui proprio mettere inizio a lavorare perché è proprio tutto sbagliato quindi non vedo bene che finisca e e poi cioè anche oggi ho detto di no a un lavoro perché ho detto no dopo finita quella roba che dovrebbe finire a luglio io voglio prendermi un paio di mesi per non lavorare ad altre robe brutte per un po' che se no mi ammalo quindi arriverà arriverà dai bene allora niente noi attendiamo e ho visto che Elena ha acceso alla telecamera non so se voglia fare una domanda esatto perdonatemi vi rubo ulteriori minuti preziosi per il sonno e però volevo fare una domanda in questa diciamo ipertrofia fluorescenza di di podcast insomma abbiamo abbiamo visto molti modi narrativi per riempire la scatola del dell'audio no e quindi volevo chiederti se per caso tu avessi non so pensassi che c'è qualcosa che ancora bisogna detonare al suo interno no se ci sono delle diciamo delle delle narrative alternative che ancora non sono state che ancora non hanno percorso il podcast non so se sono stata chiara sì allora faccio un po' fatica a capirlo perché cioè un conto è quello che sento io che vorrei fare io e un conto è quello che il pubblico potrebbe volere in un determinato momento secondo me il pubblico ancora fa ha ancora tanto bisogno di mettere unire i puntini mettere insieme i pezzi è il motivo per cui Barbero sta lì dove sta è per quello perché anche tutti gli altri podcast sono tutti adesso ti spiego ti dico tutto ti dico tutto ti dico tutto ti dico tutto quello che so ti racconto tutto quello che so oppure ti racconto il lato emotivo delle cose però te lo racconto senza farne poi una questione di sistema quindi solo appunto condivisione del dolore o di questo secondo me arriverà un momento di anche storicamente di enormi conflitti cioè anche quello che sta succedendo in questi giorni Israele è il primo paese che è uscito dalla pandemia con un alto tasso di vaccinazione ed è il primo paese dove succede un grosso casino o fruttarita e potrebbe replicarsi anche altrove questa non dico la stessa cosa ma la stessa tensione di adesso le cose riprendono quindi facciamo i conti con le cose che sono rimaste in sospeso quindi secondo me adesso è il momento cioè se dovessi fare qualcosa forse farei qualcosa di questo tipo cioè di mettere insieme i pezzi spiegare le cose dare delle delle incastrature tra cose che sbattono tra di loro però questo perché sento che c'è un po' l'esigenza del pubblico potrebbe essere questa degli ascoltatori mentre di mio per esempio sarebbe fare cose quasi senza parlato cioè se volessi fare cioè per esempio c'è questo podcast che si chiama Field Recording che è iniziato l'anno scorso che è solo solo suono non parla nessuno e andrei probabilmente in quella direzione lì o cose che non hanno senso testi scritti senza alcun significato andrei verso la sperimentazione pura ma questo perché il mio percorso così creativo invece mi porterebbe lì però non lo ascolterebbe neanche mia madre credo quindi da quel che ho capito o iper sistematici o completamente dada per come la vedo io sì però appunto c'è posto per tutti quindi sicuramente cioè a me piace molto quando esce una roba che non mi aspettavo e poi c'è una grossa frontiera di contenuti di contenuti che per esempio anche io non posso raccontare quando esce una roba tipo il monologo di Piero Medeo lì ti rendi proprio conto che c'è tutta una parte che non parla che non che non ha spazio di dire e la roba interessante del podcast è che tu prendi un microfono volendo eh senza fare tutta la roba il sound design le musiche quella roba lì attacchi un microfono il computer dici le robe le pubblichi e quindi quello cioè quello è un altro fronte quello di avere una adesso dico una roba d'anziano una generazione che dica delle robe che non vengono dette grazie va bene non so forse siamo giunti al termine ci sono stati tanti interventi quindi sono molto contenta di questa cosa e niente direi ti saluto ti salutiamo grazie mille grazie a tutto grazie poi direi tu con cui sfogarti adesso 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 gli do il via e mollo le le gambe grazie ti ti scrivo per tutto grazie mille va bene buona serata buonanotte ciao 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 grazie